Benitalia 2022 continua, ci troviamo nello stand della Antonio Fiore Alimentare, un'azienda pugliese molto ben presente nel vending, oggi ben rappresentata da Maria Pia Paglino, la direttrice commerciale per il settore vending, Maria Pia benvenuta. Grazie, è un onore essere intervistata da te, dopo qualche anno che sono nel vending è la prima volta che ho la possibilità di essere davanti al tuo microfono, davanti alla tua telecamera, questo Vending Italia ci ha dato l'opportunità di rivedere delle figure storiche, di rafforzare i nostri rapporti con i clienti storici, con i grandi gruppi, con i clienti con i quali abbiamo ormai un rapporto duraturo e fidelizzato. Oltre a ribadire la nostra offerta abbiamo anche presentato delle novità, dei prodotti più salutari e altre novità sono ancora in fase di sviluppo, si tratta sempre di snack salati da forno, sempre qualità Antonio Fiore, prodotti che insomma rappresenteranno al meglio la nostra azienda sulla scia già dei Fragrantini e dei Taralli che sono un po' il nostro cavallo di battaglia. Ecco, parliamo proprio di Fragrantini, il prodotto eletto prodotto dell'anno, lo scorso anno e che è stato ormai inserito in gran parte dei distributori automatici in tutta Italia. Assolutamente sì, come dicevo prima rappresentiamo i gruppi principali, le gestioni più importanti, credo che possiamo definirci leader per la nostra categoria nel settore vending e per noi è un perché il settore, rispetto ad altri settori, ci dà la possibilità di creare dei rapporti duraturi nel tempo che si consolidano sempre di più e questa fiera ci ha dato anche la possibilità di stringere degli accordi per future partnership con altri fornitori del vending però di altre tipologie di prodotto. Nuove relazioni commerciali? Sì, assolutamente sì e poi una cosa che dicevo, questa edizione del Venditalia ci ha permesso anche di entrare a contatto con aziende del vending dell'estero, in particolar modo Romania, Francia e Spagna e questo per noi rappresenta un'opportunità estremamente importante. Maria Pia, per tutti coloro che non hanno un rapporto commerciale con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per scrivervi, appunto chiedendo informazioni commerciali, modalità di pagamento, quantità minime da poter ordinare e così via? Abbiamo un indirizzo generico info-fiorealimentare.it o il mio diretto paglino-fiorealimentare.it Molte grazie per la collaborazione, ci rivedremo prossimamente sugli schermi di vendintv.it e parleremo naturalmente di Antonio Fiore Alimentare e i prodotti nuovi a venire. Grazie mille, è stato veramente un piacere. 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 Grazie a tutti